BTP indicizzati all'inflazione. Addio! Nel video di oggi cercheremo di rispondere a questa domanda e in particolare ci interrogheremo sul futuro a breve e a medio termine di quelle che sono le obbligazioni indicizzate all'inflazione, quindi non solo i titoli di Stato italiano ma in generale tutti questi titoli, soprattutto di emissione governativa, che sono appunto indicizzati all'inflazione. Bentornato sul canale YouTube di Affari Mie, io sono Davide Marciano e sono il cofondatore di Affari Miei. Affari Mie è una società di educazione e consulenza finanziaria indipendente e a partire dal 2014 con la nostra attività ci occupiamo di guidare gli investitori che vogliono prendere il controllo del proprio patrimonio a farlo in maniera efficiente. Se questa è la prima volta che sei qui sul canale ti invito a iscriverti cliccando il tasto che trovi qui di sotto e attivando anche la campanella con le notifiche così che YouTube ti informerà sui nuovi contenuti che pubblicherimo. Se già ci conosci e ci segui schiaccia un bel pollice verso l'alto così da aiutarci a diffondere questo contenuto attraverso i sacri algoritmi di YouTube. Last but not least, se vuoi iniziare a investire in autonomia e non l'hai mai fatto e magari stai guardando al mondo degli ETF, clicca qui in basso in descrizione, troverai un link con un report gratuito con tre ETF diversificati scelti dal Centro Studi di Ricerche che ti aiuteranno appunto ad apprendere i primi concetti basilari per la gestione autonoma del patrimonio. Ciò detto, direi che siamo pronti per entrare nel merito di questo video e vedere se e in che modo anche nel 2023 e nei futuri anni continueremo a poter far conto sulle obbligazioni indicizzate all'inflazione. Lo vediamo subito dopo la sigla. Per rispondere in maniera approfondita alla domanda che ci siamo fatti in apertura dobbiamo muoverci su tre livelli. Il primo livello è che cosa succedeva in passato alle emissioni indicizzate all'inflazione. Il secondo livello è che cosa sta succedendo oggi, quindi cosa dicono i dati in questo momento, nel momento in cui sto registrando. Il terzo livello invece riguarda quello che possiamo aspettarci per il futuro e in generale quello che possiamo in qualche modo anche fare noi. Cominciamo dal passato. Che cosa vuol dire passato? intendiamo per passato tutto ciò che veniva fino al recente cambiamento delle politiche delle banche centrali. L'inalzamento dei tassi di interesse ha posto il termine alla stagione del Whatever It Takes, inaugurata da Mario Draghi quando era alla guida della Banca Centrale Europea, che ha portato in pratica quasi a un decennio, possiamo dire, di tassi tenuti bassi dalle banche centrali, secondo qualcuno anche troppo bassi. In quella stagione probabilmente molti neanche erano a conoscenza del fatto che ci fossero obbligazioni statali, BTP italiani, in qualche modo indicizzate all'inflazione, semplicemente perché non era conveniente per l'investitore. Sono convinto che la stragrande maggioranza delle persone che guarderanno questo video ricorderanno benissimo i pensieri che hanno potuto fare o hanno potuto leggere nel corso degli ultimi anni, quando più o meno il mantra era, ma le obbligazioni non rendono niente che investiamo a fare, i tassi sono bassi, eccetera. Bene, in quella fase storica esistevano anche le obbligazioni indicizzate all'inflazione di cui si parla oggi, che ovviamente interessavano molto poco gli investitori e tantissimo i politici e in generale chi gestiva la cosa pubblica. Il motivo per cui non interessavano gli investitori mi sembra ovvio, perché non c'era trippa per gatti, non c'erano rendimenti, l'inflazione era bassa, quindi non si poteva prevedere un innalzamento dell'inflazione a breve termine, tale da rendere appetibili quelle emissioni. Per chi gestiva la cosa pubblica, per i politici in generale, per tutti quelli che possiamo dire comandano gli stati, i governi, emettere obbligazioni indicizzate all'inflazione era un ottimo affare, perché praticamente voleva dire emettere delle obbligazioni che davano rendimento quasi zero. Voi immaginate chi ha emesso un decennale, magari dieci anni fa, ha praticamente iniziato a pagare qualcosina in più a partire dal 2022, quando l'inflazione è salita per dieci anni, in pratica sono state delle emissioni a zero spese o quasi per chi appunto si è fatto prestare i soldi, nel nostro caso gli stati, volendo essere più specifici lo stato italiano. Oggi però la situazione è radicalmente diversa e nel 2022 si è parlato tantissimo delle emissioni indicizzate all'inflazione, soprattutto chi guarda questo video dall'Italia avrà letto, sentito e visto qualsiasi cosa riguardo magari i propri BTP indicizzati all'inflazione che sono un po' i titoli che interessano di più gli investitori retail. Se da un lato l'emissione indicizzata all'inflazione può essere una buona opportunità per chi investe, dobbiamo metterci anche nei panni di chi si fa prestare i soldi, cioè degli stati, e capire se agli stati questa cosa conviene e soprattutto se gli conviene nel lungo termine, perché sappiamo benissimo che se il debitore ha la lunga difficoltà a pagare, la nostra bella cedola resta un po' lettera morta. Guardiamo come sembra gli Stati Uniti, che sono il mercato più evoluto, consideriamo che il governo degli Stati Uniti spenderà quest'anno circa 150 miliardi di dollari di interessi derivanti da emissioni di obbligazioni inflation linked. Per renderci conto di cosa vuol dire questo, consideriamo che la metà degli interessi che saranno pagati ai creditori dagli Stati Uniti deriverà appunto da obbligazioni indicizzate all'inflazione, le quali rappresentano appena il 9% del totale, quindi il 91% dei titoli di Stato emessi dagli Stati Uniti non è indicizzato all'inflazione e emessi insieme gli interessi che vengono pagati rappresentano appena la metà del totale degli interessi, l'altra metà sono quel 9% di Treasury Bond, in questo caso indicizzati all'inflazione. Se non ci piacciono gli Stati Uniti guardiamo al Regno Unito e il Regno Unito avrà praticamente una situazione analoga. Su 92 miliardi di interessi che saranno pagati ai creditori, ben 55 miliardi sono collegati ad obbligazioni indicizzate all'inflazione. La domanda quindi che ci dobbiamo fare è cosa succederà da qui a breve, cosa faranno gli Stati per capire se ci sarà ancora un futuro per le obbligazioni indicizzate all'inflazione, siano esse italiane o internazionali, dobbiamo provare a metterci un po' nei panni dei politici e cercare di capire come potrebbe ragionare chi ha in mano un po' i cordoni della cosa pubblica. I politici ovviamente, soprattutto nelle democrazie occidentali, ragionano sempre a breve termine, devo fare quello che mi conviene oggi, ciò che posso sbandierare come conveniente e come sensato adesso perché altrimenti banalmente l'opinione pubblica mi darà addosso. Ecco, mentre per un governo dieci anni fa era sensato pensare magari di dire emettiamo obbligazioni indicizzate all'inflazione perché così se la situazione resta come adesso praticamente ci facciamo quasi prestare i soldi gratis, oggi la situazione è completamente diversa. Se vengono emessi dei BTP come abbiamo visto recentemente in Italia, indicizzati all'inflazione, già quando arriverà la prima cedola praticamente sappiamo che andremo a pagare una cedola molto importante da un punto di vista economico e sebbene qualcuno dica che l'inflazione prima o poi scenderà e che magari nel lungo termine possa essere persino conveniente per lo Stato emettere BTP indicizzate all'inflazione e non sia conveniente per le investiture perché le cedole dei primi anni potrebbero essere un buono specchio per le allodole, dobbiamo considerare che un politico mediamente resta in carica 4-5 anni a seconda dei casi, in Italia cambiamo governo praticamente ogni anno, mentre di solito i titoli di Stato possano avere anche una durata decennale, quindi non c'è abbastanza tempo per la democrazia per validare un'eventuale decisione di tipo finanziario. Quindi cosa ci possiamo aspettare nel breve? Ci possiamo aspettare che molti policy makers possano semplicemente pensare di ridurre l'emissione di bond indicizzate all'inflazione perché così non dovranno spiegare all'opinione pubblica perché stanno pagando spese per interessi così elevate e non stanno adottando altre strategie. Ovviamente poi bisognerà vedere che cosa ne pensano i mercati perché i mercati che siamo noi sostanzialmente e gli investitori istituzionali si aspettano in questa fase una remunerazione del capitale, quindi con ogni probabilità noi vedremo da un lato la volontà da parte delle autorità di ridurre le emissioni indicizzate all'inflazione, dall'altro vedremo il mercato che chiederà interessi, dirà signori qui c'è l'inflazione, qui c'è incertezza magari anche sul mercato azionario perché veniamo da un anno che non è andato particolarmente bene, vogliamo i rendimenti. E come si risolve questa situazione? Probabilmente non la risolviamo noi perché noi non siamo policy makers, noi siamo privati investitori e quello che più ci interessa è ciò che possiamo fare noi. Cosa ha senso fare in questa fase storica? Probabilmente il 2023 sarà l'anno delle obbligazioni per un motivo molto semplice perché aumenteranno i tassi di interesse, perché ci sarà un rinnovato interesse proprio verso le obbligazioni, proprio perché i mercati sono andati male e non assicurano una crescita quasi certa come è stato nell'ultimo decennio e perché ovviamente maggiori interessi daranno anche delle maggiori prospettive per chi cerca il reddito fisso che potrebbe tornare appunto di moda. Quello che dobbiamo fare noi ovviamente è sempre costruire il nostro portafoglio di investimenti in maniera bilanciata, in maniera sensata, cercando di avere in portafoglio tutte le asset class che possono essere bond indicizzate all'inflazione, visto che in questo caso parliamo di obbligazioni, o anche bond con una durata medio-lunga non necessariamente indicizzate all'inflazione, così da essere sicuri che nel caso in cui l'inflazione dovesse essere elevata ancora per un po' di tempo in qualche modo saremo coperti, se di contro, come si prevede, l'inflazione dovesse scendere e quindi dovessimo trovarci di fronte a una situazione in qualche modo normale sotto controllo, magari i bond indicizzati all'inflazione perdono un po' di valore, però se abbiamo costruito un portafoglio bilanciato e in questo caso per la componente obbligazionaria abbiamo anche dei bond a tasso fisso, ovviamente il rischio verrebbe in qualche modo bilanciato. Come sempre la verità sta nel mezzo, non esistono soluzioni facili e immediate. Io mi auguro che questo video sia stato utile soprattutto per ragionare sulle prospettive, quindi su quello che ci possiamo aspettare nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi, se hai domande riguardo a questo, se ci sono dei temi che vorresti fossero approfonditi qui sul canale. Io ti ringrazio per il seguito e ti saluto. A presto, ciao!